Ciao comandanti, io sono Blizzard e oggi è un video molto molto diverso dal solito. È la prima volta che trasmettiamo così, diciamo in prima persona, siete abituati a vedermi tra i mari di World of Warships, diciamo sempre del riquadretto, magari recentemente con l'aggiunta del reparto grafico anche qui su YouTube, ma oggi è giusto riprendere anche buona parte dello studio perché è un video molto molto speciale. Sarà un video che sarà suddiviso in quattro parti, ringraziamenti perché veramente la mano che mi avete dato nell'ultimo mese è stata straordinaria, senza precedenti per questo canale e quello che siamo riusciti a ottenere è qualcosa di assurdo. Poi farò vedere proprio in maniera fisica quelli che sono stati gli upgrade che mi avete permesso di acquistare attraverso le donazioni, gli abbonamenti e tutto il supporto che avete dato a cavallo tra, diciamo, la fine di settembre e inizio di ottobre. E infine parleremo anche di Games Week e di Instagram che saranno argomenti del video perché come sapete sarò presente il 23, sabato 23 novembre alla famosa fiera milanese di videogiochi, ma in realtà ormai è diventata una fiera anche di tante altre cose. Comandanti, riparto subito con i ringraziamenti, ho preparato anche delle liste perché, comandanti, il vostro supporto è stato incredibile. Poi farò vedere anche quanto abbiamo pagato, quanto, diciamo, è il listino a livello monetario, l'upgrade che avete permesso è qualcosa di incredibile, di assurdo. Non a caso la qualità, anche solo vedendo, del reparto grafico è stata decuplicata in maniera assurda senza che sia mai visto prima su questo canale. e non mi aspettavo che una generosità tale potesse arrivare da parte della community, che comunque è sempre piccola perché il gioco che trattiamo è comunque sempre un gioco di nicchia. Che potete dire? Ho messo una lista di alcuni giocatori che hanno i principali giocatori per quanto riguarda le azioni ricevute attraverso PayPal. Poi sono divisi in due parti perché una parte è appunto Fabio, Ramiro, Pierluigi, Maurizio, Stefano, Fabiano, Lorenzo, Gabriele, Davide, Boris, Guido e Marco. Ho ovviamente censurato i cognomi, queste perché sono i bonamenti, scusate, le azioni arrivate attraverso PayPal, quindi si potevano vedere tranquillamente i nomi e i cognomi. Quindi un ringraziamento gigante a loro che hanno veramente fatto un lavoro assurdo per supportare tale iniziativa. Oltre poi a tutti gli abbonati, che sarebbe una lista lunghissima da fare e sarebbe inutile andare a ricordarla, c'è la seconda sezione riguardante le azioni che ho ricevuto attraverso ad esempio PsyPay, che è un altro tipo di pagamento attraverso sempre la carta di credito che comunque è sempre collegata al canale. Ci sono appunto Fra Lake, Conte di Carmina, Roger Young, Zar, Barba Fidel, che è uno dei più longevi abbonati tra l'altro a questo canale, e Achilleuco, Colamando e Harry Kane. Harry Kane tra l'altro è stato, cioè, non vi farò vedere quello che ci ha permesso di ottenere Harry Kane. Harry Kane da solo è andato oltre l'inimmaginabile con attrezzatura che direttamente lui ha preso da Amazon, ce l'ha fatta arrivare a casa. I comandanti, la cifra che ha sborsato Harry Kane da solo copre, credo, anzi supera probabilmente il 50% di tutto il monte spese. Harry Kane proprio è stata la colonna portante di questo upgrade e non finirò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto, considerando anche che è un utente che io comunque conosco da pochissimo tempo, non so da quanto lui mi segue, ma se guarderai questo video, Harry Kane, sapi che molto di quello che riusciremo a fare, e faremo magari anche su Instagram e su altri social, sarà quasi esclusivamente merito tuo, grazie alla generosità che hai dimostrato in queste settimane e in questi giorni. Vi faccio vedere adesso, comandanti, quello che è stato un po' il costo totale e la lista degli upgrade che siamo andati a fare, grazie a voi, grazie alla vostra generosità, e in particolare delle persone che mi seguono su Twitch, è inutile dirlo, YouTube ha registrato solamente tre donatori, uno tra l'altro particolarmente generoso, con una donazione da quasi 50 euro, ma tutto il resto arriva da Twitch. Lo dico ovviamente senza polemiche, perché quando si apre una sorta di crowdfunding, quando si chiede supporto per fare queste cose, è comunque a discrezione dei giocatori decidere se aiutare o meno un creator. Però devo dire che Twitch ogni volta mi sorprende, per quanto sia incredibilmente disponibile ad aiutarmi, Twitch ne inteso come i giocatori che mi seguono lì sul sito Viola, mentre YouTube ogni volta, e devo dire che è piuttosto latitante da questo punto di vista, e a volte rimango un attimino, non dico deluso, ma sorprezzo dal fatto che ogni settimana, ogni mese, ormai da più di quattro anni qui su YouTube, aiuto la gente, e mi sorprende sempre il fatto che quando magari qualcuno dovrebbe semplicemente di sua volontà, magari sentirsi anche sensibilmente, diciamo convinto da dire, ok, mi ha aiutato per anni, magari 10 euro glieli do, giusto perché gli serve a mano per fare questo contatto, che comunque sapete benissimo che gli aiuti al canale vengono chiesti rarissimamente, tipo due volte in tre anni, giusto per fare un esempio. Però ogni volta YouTube è piuttosto tirchio da questo punto di vista, una parola un po' brutta, però comandanti è la pura e semplice verità. Dicevo, questo comandanti è la lista effettiva dei costi e del totale che abbiamo speso, tra regali e ovviamente anche spese coperte dal canale, per andare a prendere tutti i pezzi che poi sono andati a comporre questo super mega fantastico studio che abbiamo potenziato nell'arco delle ultime due settimane, quasi tre ormai. Abbiamo infatti il mousepad della SteelSiri che poi vi farò vedere, e poi vi farò vedere solo un'icona perché è talmente grande, è il mousepad più grande che abbia mai visto, copre praticamente qualcosa come l'80% della scrivania, sarebbe impossibile per me sollevarlo anche perché la scatola l'ho già buttata, di conseguenza ve lo farò vedere poi in un'icona. Vediamo poi il mousepad della SteelSiri, questo ve lo posso far vedere, eccolo qui, è un vero e proprio gioiello, è un MySpot fatto in carbonio e alluminio, è l'Aerox 9, è considerato anche uno dei mousepad più veloci del mondo, è un mouse straordinario, tra l'altro resistente anche all'acqua, uno potrebbe dire ma c'ha i buchi, passa l'acqua? No, è resistente all'acqua, può essere illuminato come gli pare, un mouse di una velocità che non ho mai provato prima, poi abbiamo una cavetteria e prolunghe, comunque queste sono ovviamente quelle, diciamo, il settore cavi per quanto riguarda i nuovi prodotti che abbiamo comprato e poi il gatto cam link che è una specie di chiavetta USB 4K che si va collegata al computer, ma costa quasi 100 euro quella cosetta lì e permette alla fotocamera di, diciamo, modificare il segnale per far sì che il computer possa riconoscere il segnale di una mirrorless, cosa che altrimenti non potrebbe fare, trasformando la fotocamera a Sony che poi vi farò vedere perché la scatola è qua vicino, perché altrimenti è là sopra, in una normale webcam, anche se in realtà è 100 volte più potente di una webcam e immagino che ne siete accorti anche voi durante questo video, oltre che durante le nostre live. Vediamo ovviamente il rapporto batteria, perché come sapete la fotocamera altrimenti si consuma velocemente, e di conseguenza c'è una finta batteria da 25 euro che in realtà è collegata direttamente al nostro impianto elettrico e praticamente trasmette alla fotocamera in modo che questa possa streamare per ore senza mai interrompersi. Vediamo poi i key light e sono le luci che vedete, una è lì e l'altra è lì, magari negli occhiali potete un po' vedere il riflesso e costano parecchio, si attivano anche a livello wireless, sono estremamente potenti, fanno luce calda, luce fredda, sono straordinarie, non riscaldano niente e soprattutto non fanno neanche riflesso, sono di una qualità pazzesca come tutti i prodotti Elgato, azienda che tra l'altro non stimo perché io non ho mai avuto una grande ammirazione per la Corsair che poi ha comprato l'Elgato, Elgato tanta roba ma la Corsair a me non è mai piaciuta più di tanto. Andiamo poi ovviamente la Sony, ovvero la nostra super mega fotocamera che da sola costa, uno sproposito tra l'altro era in sconto perché il prezzo vero di questa fotocamera è intorno ai 840 euro, l'ho avuta in sconto su Amazon a circa 650 con l'obiettivo tra l'altro standard installato, comunque rimmovibile e poi potenziabile in futuro e poi abbiamo ovviamente i pannelli per il suono che vedete installati alle mie spalle e ovviamente lo Shure. Questo gioiellino che vedete qua che è stato sempre stato il mio desiderio perché questo non è altri che il microfono podcast, streamer, content creator, chiamatelo come volete, più famoso del mondo e anche uno dei più costosi del mondo e da molta gente è considerato il miglior microfono per fare questi contenuti. Da solo costava fino a poco tempo fa circa 500 euro, oggi è in sconto su Amazon a circa 400, una cifra comunque molto importante per un normale streamer che fa questo pur sempre per hobby, fa altro nella vita. Quindi diciamo che per me avere questa cosa è proprio una sorta di riconoscimento importantissimo e è veramente molto molto apprezzato. Questa diciamo che era la lista per quanto riguarda i costi totali. Quasi 1800 euro tra regali e costi coperti dal canale con le donazioni e con gli abbonamenti, veramente qualcosa di mai fatto prima sul canale almeno per quanto mi riguarda. Questo è il mousepad che ho acquistato, come potete vedere è gigantesco, è molto più grande di una normale scrivania. Non mi ricordo quante sono effettivamente le dimensioni ma è chiaramente più largo di un metro, dovrebbe essere circa un metro e venti, un metro e trenta per qualcosa come circa 70-80 di profondità. Quindi è veramente gigantesco e ha un costo come avete visto prima veramente importante. E poi ovviamente abbiamo la Cam Link, non posso staccarlo direttamente dal computer perché è là dietro. È questa chiavetta che collegata poi a un cavo che abbiamo comprato a parte permette appunto alla fotocamera di comunicare con il computer vero e proprio. Questi diciamo che sono i prodotti bene o male che potevo fare vedere sul monitor. Andiamo poi ai prodotti qua vicino a me. Questo appunto è l'Irox nella sua classica super mega figa scatoletta package della SteelSeries. Veramente tanta roba, un regalo di Erich in questo incredibile, ha un prezzo incredibile. Poi abbiamo ovviamente la Sony, comandanti, che è quella qui, la nostra bella Medford Vlogging, la nostra Sony ZV10, che tra l'altro io ero deciso fino alla fine se prendere una Canon o altro, solo che tantissime persone che fanno anche questo di mestiere mi hanno tutti detto che per questa fascia di prezzo diciamo tra i 600 e i 900 euro la ZV10 è sicuramente la miglior scelta che si può fare oggi sul mercato per fare vlog e fotografia insieme. E tra l'altro sarà fondamentale quando aprirmo Instagram tra un paio di settimane perché ho intenzione di aprirlo prima di andare al Games Week. Adesso comunque poi nel proseguire il video ne parleremo. Un vero gioiello che di fatto permette tutto quello che state vedendo in questo momento. Quindi questo veramente è coperto interamente dagli abbonati e dai donatori che si sono occupati di questa cosa. Poi abbiamo ovviamente qua le due luci che volevo mostrarvi. Una e una due. Non sto scherzando sono veramente due. Sono veramente due. Non potete dire ma prendi due scatoli una scatola alla volta. No, ragazzi sono due sono gigantesche ovviamente le scatole sono molto leggere perché sono già state installate ma anche molto molto belle a livello estetico da vedere e fanno un lavoro incredibile per vi assicuro che quando avete una fotocamera importante e potente come questa è fondamentale avere come andanti tre punti luce uno a destra uno a sinistra magari floodlight alle spalle per riuscire a eliminare le ombre e avere un effetto particolarmente bello e perché comunque una fotocamera come questa richiede particolarmente tanta luce il processore che c'è all'interno e quindi per poterla sfruttare al massimo dovete comunque aprire il portafoglio con le luci e nel gatto mi è sembrata ovviamente la scelta migliore nonostante comunque costassero parecchio rispetto magari ad altre marche meno conosciute. E infine anche se lo state già vedendo eccola qui la scatola dell'SM7B signori il gioiello dei gioielli il microfono da streamer migliore del mondo è una vera e propria cosa assurda pazzesca mai avrei pensato di toccare questa scatola nella mia vita è sempre stato l'oggetto del mio desiderio siamo passati da un podcast che costava 90 euro della Rode comunque è un eccellente microfono per quella fascia di prezzo a un mostro che costa 4 volte tanto quasi 5 è capace di performance assurde con modifiche del suono come gli pare cioè oltre ad essere esteticamente una cosa stupenda pensavo anche di cambiare il braccio ma in realtà come andati non lo cambierò perché questo qua funziona perfettamente non ho mai avuto nulla è comunque un braccio della Rode di alta qualità anche se il modello è precedente a quell'ultimo uscito penso che probabilmente non lo cambierò a questo punto il canale potrà solamente immagazzinare poi supporto da parte vostra per upgrade futuri come l'acquisto di un nuovo computer o altro ma veramente tutto quello che potevamo fare veramente a livello massimo l'abbiamo fatto e come detto prima non avrei mai pensato di ricevere così tanti oggetti da parte vostra così belli così sofisticati incredibilmente performanti considerando che noi facciamo questo pur sempre per hobby però è bello avere un hobby che comunque si automantina nel corso del tempo grazie alle persone comunque che ci seguono ogni giorno su Twitch quasi ogni giorno perché noi non stremiamo generalmente e poi qui su YouTube o due a volte tre volte a settimana a questo punto direi che possiamo parlare anche del Games Week ci saranno diversi eventi io andrò lì sabato 23 novembre arriverò in stazione Milano verso le nove e mezza dieci poi ci trasferiremo a Ro e Milano Fiera dove il Games Week andrà avanti se non sbaglio fino alle sei o alle sette io avrò il treno di ritorno intorno alle sette e mezza per Desenzano di conseguenza resterò in fiera più o meno fino alle cinque c'è già un nutrito gruppo di giocatori 15-20 persone che intendono venire e faremo una sorta di meet and greet lì direttamente in fiera ho già paura perché l'anno scorso qualcuno è venuto fino qui per darmi dei regali per darmi quello che hanno comprato in fiera mi hanno regalato un tappetino di Vaporeon dei Pokémon che però comunque è un'idea carina e ho paura pensando cosa potrebbero rifilarmi quest'anno perché già qualcuno ha proposto mirabolanti cuscini dalle forme esotiche giapponesi da portare in treno e so già che vorranno mettermi in imbarazzo quindi già temo questo però sicuramente sarà bello chiunque volesse venire incontrarmi fare due chiacchiere vi offro da bere vi offro da mangiare faccio quello che voglio anche perché intendo anche un po' sdebitarmi con tante persone che veramente mi aiutano da anni per quanto riguarda l'attrezzatura del canale sia qui ma soprattutto su Twitch e quindi comandanti se volete sabato 23 novembre sarò direttamente lì a Milano in fiera scrivetemi tra i commenti qui su YouTube magari me lo fate sapere via mail oppure su Discord o venite direttamente in Twitch la sera dopo le 20 facciamo quattro chiacchiere poi magari ci incontriamo noi il 23 siamo tutti insieme e andiamo dentro un po' a fare casino in fiera a divertirci a passare una giornata diversa dalle altre quindi 23 novembre di Milano Games Week infine per quanto riguarda il discorso legato a Instagram sì comandanti lo opereremo nelle prossime due settimane diventerà il social di riferimento per quanto riguarda le nostre attività ma non solo ho intenzione anche di portarvi buona parte della mia quotidianità lì sulla piattaforma questo perché lo considero anche un modo per aprirmi o soprattutto per mettere alla prova me stesso perché sono una persona che è molto introversa anche se magari non può non può sembrare ma effettivamente è così tipo io sono il tipo che quando prende va in vacanza non lo dice ai parenti sono il tipo che quando cambia macchina lo fa senza dire niente a nessuno o quando vado a fare certi appuntamenti o vado fuori per un weekend non lo dico mai a nessuno vado spesso insieme ad amici o altro ma non sono uno che parla di questo o parla degli altri non sono il tipo che va a un ristorante tipo qua vicino c'è un ristorante che si chiama Gambero famosissimo Stella Michelin va lì non è che faccio le foto oppure vai a mangiare fuori non sto lì a fare le foto ai piatti o a fotografare lo sfondo o il lago è una cosa che non ho mai fatto perché non ho mai sentito l'esigenza di comunicare con gli altri ultimamente anche cambiando un po' aggiungendo il just touching sul canale Twitch e cercando di interagire maggiormente con le persone mi sono reso conto di quanto in realtà è bello parlare con la gente che non conosce e soprattutto cercare di dimostrare maggiore empatia nei loro confronti cercare di capirli cercare di capire di più riguardo alla vita delle altre persone portarvi un po' nelle mie quotidianità farò vedere dove lavoro Mr. Grey il lago di Garda quando vado in giro la casa mia insomma sono tante cose che potrebbero anche migliorarmi a livello caratteriale quindi diciamo che l'apertura di Instagram che accadrà probabilmente tra 15 massimo 20 giorni sarà anche soprattutto un test per quanto mi riguarda e spero che se volete mi seguirete anche lì e magari imparerete a conoscere meglio e magari alcuni di voi che pochi però ci sono sicuramente che di me hanno una bruttissima opinione magari cambieranno idea e capiranno che sì sicuramente in passato ho sbagliato su tante cose però non sono quella persona così cattiva come pensa qualcuno e penso che tanti l'abbiamo già cambiato idea vedendomi cambiare negli ultimi tempi su Twitch spero con Instagram di riuscire anche a far cambiare idea degli ultimi ma soprattutto spero di crescere io caratterialmente e di riuscire ad aprirmi di più con le persone il motivo principale per cui io exploro Instagram effettivamente sarà unicamente questo imparare ad essere meno introverso meno riservato e più aperto con le persone signori siamo arrivati praticamente alla fine vi spero che il video comunque vi sia piaciuto perché comunque è merito vostro se siamo riusciti a fare tutto questo spero spero che scrivete nei commenti quello che pensate spero di vedervi in tanti al Games Week spero di riuscire sempre a farvi divertire non solo con World of Wars ma anche con reaction che faremo su Twitch e altre regate a YouTube e al chat che faremo e spero soprattutto di continuare a essere un po' un punto di riferimento per alcuni di voi in gioco e a farvi passare delle ore di divertimento di intrattenimento sia qui che sulla piattaforma viola questo per quanto riguarda diciamo il canale oggi come sempre vi ricordo sul finale comandanti che siamo l'entro ma lo sapete benissimo è fondamentale il vostro supporto per chi aiuta concretamente il canale soprattutto con Amazon Prime potete abbonarvi completamente in maniera gratuita alle nostre iniziative c'è poi ancora abbonamento da 5 ore ma quello è solo per chi vuole proprio dare una mano in tasca sua altrimenti col Prime basta collegarlo a Twitch su nel primo commento c'è il link per farlo due click tre giorni di abbonamento rinnovo manuale quindi siete sempre voi a rinnovarlo sempre senza pagare nulla e obbligherete Amazon darci un piccolissimo ma veramente importante contributo mensile per mandare avanti tutto questo che come avete visto prima è particolarmente costoso e impegnativo se lo si vuole fare con una certa qualità nei contenuti signori la sua scritta è dal barone grigio da qualche parte sperduto in casa forse due piani sopra è tutto noi ci ritorniamo qua probabilmente credo comandanti mercoledì con la recensione di un Destroyer che ancora oggi manca sul canale andremo infatti a scoprire il grande Daring il mio Destroyer gratuito TR-10 preferito come sempre da Matteo buona caccia lo sopra